L'impennata dei contagi, mai avuti tanti nuovi positivi in campagna da inizio pandemia, porta la regione a superare due dei tre limiti per il cambio di colore, quello dei ricoveri nei reparti di dagenza e l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. Questi grafici che danno conto, su dati del Ministero della Salute, dell'impennata avuta in particolare negli ultimi due giorni il 28 e 29 dicembre. 19.989 nuovi positivi in campagna in 48 ore, di cui 2.853 in provincia di Salerno. Solo all'inizio di dicembre si viaggiava in campagna ad una media di 1.160 casi al giorno, poco più di 1.000 in una settimana in provincia di Salerno. Mettendo a confronto le due giornate del 28 e 29 del 2020 e del 2021, appare chiara la differenza. 1.068 i positivi registrati lo scorso anno contro i 16.889 del 2021. È pur vero che il dato emerge dal numero di tamponi effettuati. Sempre nelle stesse giornate, lo scorso anno, furono 11.499, circa il 5% dei 215.732 fatti negli ultimi due giorni di questo 2021. Il tasso di positività, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, in pratica era superiore lo scorso anno, attestandosi al 9,28%, rispetto al 7.87 di questi giorni del corrente anno. Superiore anche il tasso di ospedalizzazione. In quei giorni del 2020 erano occupati 97 posti nelle terapie intensive e 1.402 di degenze, il 15% delle prime e il 45% delle seconde. Oggi in Campania siamo al 7% nelle intensive e al 15% nelle degenze. Ed è proprio questo uno dei limiti che viene considerato per il passaggio da zona bianca a gialla. Per le terapie intensive è del 10% invece. La Campania resta comunque al di sotto della media nazionale su questi due indici, che si attestano al 13% per le intensive e al 17% per le degenze nel paese. Altro limite sforato in Campania è quello dell'incidenza. In soli tre giorni ci sono stati 339,35 casi ogni 100.000 abitanti. E se il trend di crescita del contagio sarà confermato, è plausibile immaginare che si supereranno di molto i 500 casi nella settimana di riferimento, che terminerà il 2 gennaio prossimo.